nell'ambito del progetto abbiamo costruito un centro di formazione professionale in agricoltura nella località di carmi in cui sono stati sviluppati percorsi formativi tecnici nel settore agricolo invece nel centro di formazione professionale salesiano di gambella città sono stati sviluppati percorsi formativi tecnici in falegna mediana nella stessa località di carmi stiamo finalizzando un'opera idrica con captazione dal fiume baro alimentata energia solare che fornirà accesso ad acqua sia per uso potabile che ricatorio parallelamente abbiamo svolto nella scuola primaria e secondaria saliriana di gambella attività di sensibilizzazione comunitarie a fine di prevenire tensioni interetniche a cui la regione sfortunatamente soggetta da quanto abbiamo potuto osservare la soddisfazione principale quanto riguarda i ragazzi che hanno ricevuto i corsi di formazione professionale è quella di apprendere competenze nuove tecniche di un determinato mestiere nel nostro caso calegnameria o agricoltura allevamento al fine poi da poterle riutilizzare nel proprio villaggio o nella propria città di una di origine per quanto riguarda invece l'intervento idrico in corso a carmi la soddisfazione principale che notiamo parlando e confrontandoci con la comunità che risiede lì intorno è quella di poter accedere facilmente a una fonte d'acqua sicura sia per uso potabile soprattutto e anche agricolo in un secondo momento il ciò 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 e ciò rende molto più facile la loro vita senza dover andare magari a percorrere troppi chilometri per poter accedere a provvigionarsi di acqua